Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo alla chiesa di San Nicolò a Cecena di Lanciano. Abbiamo un concerto di quattro campane, adesso ascolteremo suonare per il benedizorno. Di frattempo lo faccio vedere, questo è il campanone, questa è la mezzana, Lancia è un'altra mezzana, Lancia è una piccola codicella. Adesso ascolteremo il battere sul campanone, poi la distesa del campanone. Quindi a presto da Edoardo Campanaro 2008 e buon ascolto a tutti, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!